buongiorno 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 ben ritrovati con l'analisi dedicata ai titoli azionari però questa volta vedendo prendendo come riferimento una strategia ad abbinare ai turbo open ed certificati emessi da unicredit quotati su borsa italiana quindi mercato regolamentato che offrono il grande vantaggio di non avere scadenza a prezzi più accessibili magari di quelli che sono adesso vedremo il titolo azionario bpm vi anticipo già 189 65 vedremo quelli che sono il bid e ask sul book e con però l'effetto leva moltiplicatore quindi anche se non si hanno grossi capitali si può investire e avere un effetto quindi questo moltiplicatore che aumenta la performance però occhio può essere anche negativo non solo positiva e quindi adesso allora cominciamo cominciamo intanto a vedere il titolo oggi bpm che ieri ha confermato quella candela rossa e chi nasci su una zona di resistenza 1 95 90 che già si vede recentemente senza andare troppo lontano nel tempo ovvero il 23 novembre metto anche a tutto schermo aveva da qui fatto era stato protagonista di questo movimento a ribasso fino al livello 1 73 50 da dove poi era ripartita rialzo e dove siamo adesso praticamente giunti arrivati su quindi 1 95 90 che comunque andando estendendo ancora più indietro nel tempo si nota come è stata una fortissima zona anche di resistenza in passato a luglio 2019 da settembre sempre lo stesso anno fino a ottobre una volta varcato il livello la soglia di resistenza è diventato supporto e insomma ancora tu direi ci siamo ritrovati nuovamente su questa zona di resistenza guarda caso che coincidenza da lì adesso c'è questa possibile inversione segnalata oggi tra l'altro questo senso già fa un meno 0 42 per cento quindi questa l'analisi con le candele ai chi nasci grafico giornaliero quindi può cambiare day by day andiamo a vedere adesso andiamo nel sito di unicredit il cui link lo trovate sotto nella descrizione di questo video quindi questo è il sito one market come potete di unicredit cominciate cliccando da filtro poi ve lo vedete bene tutto il resto i contenuti tantissimi che trovate all'interno come cercare il certificato turbo open end relativo a bpm filtro quindi tipo di prodotto è andato tutto giù tutto giù scorri scorri tutto giù e arrivi turbo open end punto col non si può shortare un turbo quindi o se è una view rialzista compri call se è una view ribassista compri put quindi attenzione cominciamo col put sottostante azione sottostante cerchiamo proprio banco bpm e adesso vedrete che appariranno le varie opzioni ce ne sono queste qui uno due tre quattro e cinque come sempre la prima cosa che dovete buttare l'occhio guardare è il prezzo strike questo qui ovvero il prezzo stop una volta toccato quello si chiude in perdita l'operazione però solo i capitali investito non di più non avete sorprese e qui vi mette in percentuale la distanza dalla barriera che il prezzo strike e vedete c'è quello più distante 25 per cento a 2 38 e 12 adesso siamo 1 89 e 80 quello più vicino e 2 poco sopra i 2 euro 5 per cento più è vicino al prezzo strike allo stop più aumenta il moltiplicatore l'effetto leva guardate 14 68 contro 3 85 14 68 significa che ogni movimento di un punto percentuale lo farà al 14 quasi 15 volte di più quindi attenzione attenzione vale anche però la leva è sempre amica nemica se usate nel modo giusto è un'amica se usate in modo sbagliato nemica anche 14 68 ma se usate un quantitativo tale che non vi fate male quindi partite sapete che quella è la massima perdita il capitale investito questo è un grande vantaggio se entriamo quello che ha lo strike più vicino non so se avete già visto quello che è il bid e ask da qui 0 135 quindi voi potete comprare eccolo qua vedete 0 più 1 e 23 perché perde in calo 0 40 più 0 135 vedete faccio vedere anche qua borsa italiana orario di negoziazione 9 0 5 17 30 e voi contrate un turbo fate quanto il capitale che volete investire 100 euro 1000 euro 5 mila euro quello che volete quello è un tour come il titolo azionario funziona esattamente come titolo azionario e poi potete anche strutturare una strategia differente mettere con una leva più alta la strategia quella da chiudere subito perché solitamente se effettivamente c'è una reazione da una candela e chinasci su una resistenza come il caso di bpm 2 3 punti percentuali dovrebbe farli quindi magari siate più aggressivi con una leva più alta per cercare di sfruttare un movimento subito una reazione grafica da questa zona di resistenza e quell'altro invece con una barriera più distante fate magari una strategia più di lungo respiro di lungo siamo grafici daily giornalieri non è che si possa fare tanto al rialzo se invece tu dici no renato ma questa è uno short il trend del rialzo secondo me bpm per varie ragioni anche di fusione operazioni bancarie è la preda preferita in questo momento sul mercato e dici no questa è una pausa e tornerà a salire andrà a puntare ad altre resistenze magari verso i 250 allora magari non fai l'operazione short non speculi non fai diciamo una strategia non vai ad implementare una strategia al ribasso e vai a vedere andiamo a vedere tornando a questo punto tra l'offerta di unicredit non più put ma call e andiamo a vedere quelle che sono le opzioni offerte eccolo qua ce ne sono diverse ce ne sono di più eccolo qui andiamo a vedere mettere primo piano prezzo strike quello più vicino è a 1 e 66 12 quasi 13 punti percentuali con un moltiplicatore 7 e 41 mentre più distante e 51 per cento a 0 sotto l'euro 0 93 e 23 con un effetto leva 1 e 96 e vedete qui il prezzo lettera a cui comprate quando dovete vendere ovviamente dovete vedere quello che è il prezzo denaro vedete molto 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 semplice non hanno scadenza grande vantaggio dei turbo io mi sono innamorato di turbo proprio per questo non hanno scadenza vi raccomando cliccate sul link unicredit sotto per avere maggiori informazioni avete visto anche come filtrare e arrivare direttamente ai prodotti di vostro interesse inoltre nella trading zone sopra vedete il ticker che lo spiega anche il link di riferimento ma trovate anche sotto sempre nel video su youtube c'è la sezione certificati eccola lì la sezione certificati dove sto mettendo questo video e dove eventualmente potete interagire con me anche per sapere l'evoluzione di queste strategie ieri quella sul dax oggi questa di bpm e tutte quelle altre che saranno inserite in questo nuovo servizio di video analisi strategie con i turbo quindi magari ci vediamo anche lì per il momento è tutto grazie buona giornata a domani con una nuova strategia con i turbo bye bye